Federico Agostinelli è stato rieletto sindaco di Campli con il 69,5% dei consensi. L'avversaria Fabiana Mariani ha ottenuto il 30,47% dei voti. Un vero e proprio plebiscito per Agostinelli che ha mantenuto sempre un largo vantaggio sull'avversaria durante tutto lo spoglio. La conferma di un grande risultato frutto di 5 anni di lavoro nel mio territorio con una squadra straordinaria che mi ha consentito di vincere questa sfida elettorale contro Fabiana Mariani e sono davvero contento di poter garantire per i prossimi 5 anni al Comune di Campli una buona amministrazione. La conferma di un sindaco che non avveniva qui nel nostro Comune da 25 anni a testimonianza del fatto che poi la fiducia che i cittadini di Campli mi stanno dando è veramente notevole. Io sono onorato di poter essere il loro sindaco. Ribaltoni appena Sant'Andrea dove si chiude l'era di Severino Serrani, battuto in questa tornata elettorale da Nicola Salini. È una soddisfazione grandissima, è il frutto di un lavoro che in questi 5 anni abbiamo svolto quale minoranza all'interno del Consiglio Comunale e poi la forza di un gruppo, di un gruppo che si è rinnovato, che ha saputo cogliere le varie esigenze territoriali e che sicuramente sarà in grado di rappresentare l'intera cittadinanza nel migliore dei modi. A Cermignano per soli tre voti di scarto è stato eletto sindaco Danilo Delcane che ha superato all'ultimo voto l'avversaria Elisa Marchiselli. Io faccio i complimenti doverosi all'altra lista. Nell'altra lista c'era anche il sindaco uscente Febbo Di Berardo come candidato consigliere. Esattamente, sì, esattamente. Era candidato consigliere, è stata una battaglia dura. Lei se l'aspettava così combattuta? No, sinceramente no. Speravo in uno scarto maggiore. Dunque ha dovuto aspettare praticamente l'ultima scheda per festeggiare. Proprio l'ultimissima scheda per festeggiare, esatto.